Ciao ragazzi sono Ceno Kakuna ed oggi siamo qua tornati con un nuovo video in Minecraft per mostrarvi oggi come creare un vero e proprio micronne funzionante in gioco ma come sempre prima di iniziare col video vi consiglio di mettere like a quest'ultimo iscrivervi al canale e di attivare la campanella delle notifiche per non perdermi nessun nuovissimo video ma detto questo ragazzi beh buona visione inizieremo subito ragazzi col creare una fossa e in seguito dentro quest'ultima ci metteremo un armosan per poi mettere una posizione alquanto particolare ovvero quella è le braccia unite ovvero ragazzi praticamente una cosa del genere dopodiché ragazzi accanto all'armosan stesso piazzeremo una slab di quarzo e in seguito anche un pistone così per spingere la slab dentro l'armosan dopodiché ragazzi a letti di quest'ultima piazzeremo un ben due bottone di ferro in questo modo e dopodiché accanto a quest'ultima creeremo ovviamente una fossa grande almeno nei blocchi che così nell'ultimo blocco ci piazzeremo una torcia di pietra rossa per attivarle ovviamente ragazzi mi ho dimenticato di dire una cosa molto importante ovvero che le last che le botole devono essere messe in questa posizione ovvero così ragazzi ecco fatto e dopodiché ragazzi faremo la cosa di prima anche con la seconda con la seconda botola ecco fatto ragazzi ora praticamente sopra il microonde che stiamo per costruire ci metteremo anche un tappeto bianco così ovviamente per coprire il microonde ecco fatto ragazzi ora lo metteremo e praticamente la struttura stessa è quasi completa ecco qua ragazzi perfetto ora ragazzi dietro al microonde che abbiamo finito di costruire praticamente piazzeremo un blocco di calcio e estruzzo nero e in seguito ragazzi creeremo anche un muro di calcio e estruzzo grigio che però dovrà essere grande nella mia oltre blocchi ovviamente la soltezza sarà sempre di 3 quindi ragazzi lo completeremo subito perfetto sarà veramente semplice e ecco fatto perfetto ragazzi ora dopo aver completato il muro praticamente prenderemo ben due items che saranno un pulsante e in seguito ragazzi un ripetitore di pietra rossa ovviamente subito li andremo a cercare perfetto ragazzi preso e ora ovviamente cercheremo anche il ripetitore di pietra rossa perfetto ragazzi ecco fatto cosa dovremmo fare per prima cosa beh ovviamente piazzare il pulsante qua ragazzi ed in seguito ovviamente dietro a quest'ultimo piazzeremo ben un ripetitore di pietra rossa ecco fatto ragazzi proprio dietro è il pulsante perfetto ovvero qua domodiché ragazzi praticamente cosa faremo beh riprenderemo sempre un blocco di calcio e estruzzo grigio e ne piazzeremo uno accanto al ripetitore così per poi creare ovviamente un circuito di ripetitore di pietra rossa fattile almeno 8 quindi ragazzi ovviamente li contiamo 1, 2, 3, 4, 5 e in seguito 6, 7 e 8 perfetto ora ragazzi praticamente ci indiveremo un bel command block tramite il comando give kiocciola p command block give kiocciola p ragazzi command block perfetto ecco fatto e ora praticamente ce ne darà uno ora ragazzi cosa faremo bene piazzeremo uno qua ed in seguito ovviamente noi continueremo il nostro circuito di ripetitore ora ragazzi praticamente faremo una cosa molto particolare bensì estenderemo il ripetitore in questa maniera ragazzi tutti quanti dovranno essere in questa posizione ecco fatto ovviamente la distanza fra queste piccole torce ecco ragazzi perfetto e ora ovviamente facciamo anche l'ultimo ovvero 3 command block perfetto ora ragazzi scrivendo il comando per ottenere l'invisibilità degli armostan che vi lascio qui in iscrizione praticamente noi equipaggeremo ovviamente all'armostan invisibile un pezzo di cotolette di maiale così per poi ovviamente farci la prova e in pratica ragazzi ai command block che abbiamo piaciuto prima nel primo digiteremo un comando in particolare ragazzi che ovviamente sarà il seguente infatti ragazzi inizieremo subito a scrivere replace items ovvero letteralmente scritto replace item ed in seguito scriveremo ragazzi entity e chiocciola e e poi in successione apriremo anche la parentesi quadra così per poi scrivere type uguale armostan in questo modo ragazzi ecco fatto ovviamente useremo sempre nell'underliner stand nomoriché ragazzi cosa faremo ora ragazzi praticamente scriveremo una cosa molto particolare bensì scriveremo slot e punto weapon e in seguito anche mainhead ovvero proprio scritto così scusate l'ho sbagliato and ecco fatto e in successione cookhead e anzi giro cookhead beef ecco fatto ragazzi ovviamente sempre con l'underliner infatti ragazzi questo comando servirà a far cambiare l'armostan da carne crua di maiale a quella cotta così da far sembrare l'effetto del microonde veramente funzionante e di seguito passando al secondo command block ragazzi praticamente scriveremo il comando play sound che in pratica quest'ultimo ragazzi ci permetterà di introdurre il suono nei punti di esperienza dopo che ovviamente la carne sarà cotta ovvero quella del microonde quando un cibo è pronto quindi scriveremo l'andone level up in seguito chi o c'è la e un po' di che ragazzi ovviamente ben tre graffette spazio tre graffette ed ecco fatto scusate ho sbagliato perfetto ed in seguito l'ultima ecco fatto e poi scriveremo tre ora ragazzi ovviamente lasceremo tutto così ovviamente ora usciremo dal nostro command block in pratica ragazzi beh ovviamente tutti il circuito ma anche i comandi saranno totalmente completi e ora faremo una prova generale del funzionamento di questo microonde ora ragazzi testeremo la funzione di questo microonde ovviamente noi per accenderlo praticamente dovremmo premere quel pulsante che abbiamo messo prima ovvero dietro il circuito di ripetitori e prima di fare ciò ragazzi faremo anzi digiteremo un comando molto importante che sarà quello di game rule command block output in pratica ragazzi quest'ultimo per chi non lo sa praticamente servirà a non far vedere le scritte di command block mentre operano quindi ragazzi noi lo scriveremo subito ed in seguito ovviamente noi proveremo subito il nostro microonde ovviamente premendo il pulsante ragazzi ecco fatto questo di pietra e ora praticamente ragazzi aspetteremo alcuni minuti anzi alcuni secondi ragazzi ed in pratica dopo alcuni secondi la nostra carne sarà totalmente pronta ed ovviamente ragazzi noi per prenderla praticamente la scambieremo con un pezzo di carne cruda così per poi cuocerla e benessere ragazzi il video finisce qui spero che vi sia tra l'organizzamento ovviamente lascio un bel like iscrivete e commentate e in descrizione come sempre troverete la playlist di tutte le mie fantastiche creazioni che ho fatto finora ma anche ovviamente i comandi per ottenere l'effetto di invisibilità quello di replace items e in seguito ragazzi è quello di play sound e come l'ultima cosa vabbè di game rule com block to put ma quindi che posso dire beh ci vediamo alla prossima gente che vediamo alla prossima gente